La nascita consapevole Perché voglio pensare qualcosa che resta sempre al di là del mio pensiero? Devo oltrepassare il me e ontico per raggiungere l'altro? Perché voglio avere l'idea di ciò di cui non posso avere idea? C'è forse qualcosa da comprendere ai margini della non esistenza. In quella precondizione di inesistenza, prima dell'actus essendi, ci sembra di ricordare d'essere stati in un nulla che ha perfino un suo spazio. In quel dapprima sono, detto la prima volta, è sono solo. Ritrovarsi in quel nulla, nell'immensità dell'imminenza, in procinto d'essere, poi immanenti nella nascita consapevole.